Buonasera, tra poco il telegiornale che si aprirà attorno a quel dibattito che oramai praticamente da giovedì ruota nel mondo della politica, ovvero ci sarà oppure no un Montibis, una seconda esperienza con Mario Monti. Quindi naturalmente se si è aperto questo dibattito è perché proprio Mario Monti ha dato in qualche maniera la sua disponibilità eventualmente a servire il Paese, a tornare utile, mettere la sua esperienza ancora una volta al servizio del Paese. Bene, adesso i partiti che si sono trovati spiazzati si dividono anche naturalmente tra chi è favorevole ad una nuova esperienza in questo senso. Casini oggi ha detto non può essere considerata solamente una parentesi quella di Monti, del governo Monti e chi invece non ci sta vorrebbe appunto che con le elezioni il governo tornasse in mano alla politica, anche perché se no non si capisce che cosa ci sta a fare la politica se non per governare. Le divisioni sono interessanti perché appoggiano un eventuale Montibis Casini, che di fatto ha sempre appoggiato l'esperienza del governo Monti e anche Gianfranco Fini. E lo fanno parlando anche di una lista nazionale, di una lista civica nazionale che unisca le eccellenze, le risorse di questo Paese per appoggiare quindi poi un Mario Monti, senatore candidato. Oggi si è inserito anche l'appoggio di Montezemolo che si è detto disposto appunto a aiutare con la sua lista, con la sua associazione più che lista per il momento appunto una eventuale candidatura di Monti per una seconda esperienza. Però dall'altra parte c'è chi non ci sta, c'è chi frena e in maniera anche ironica, per ironia della sorte, si ritrovano dalla stessa parte quelli che invece di solito sono su schieramenti opposti, ovvero il PD e il PDL. Bersani ha detto non bisogna usare scorciatoie, appunto bisogna tornare alla politica, restituire credibilità alla politica e anche Alfano ha frenato in questo senso. Per quanto riguarda naturalmente Monti Bis, la sua candidatura appunto parlando di una candidatura che deve essere sottoposta, aveva già detto naturalmente Alfano, questo è un discorso che ripete, al vaglio del popolo. Naturalmente poi ci sono anche le altre opposizioni, c'è Vendola, c'è l'Italia dei Valori che appunto vedono con scarso favore, diciamo così, un'eventualità del Monti Bis. E poi c'è l'altro fronte, c'è il fronte come vi dicevo di una politica che cerca di capire che cosa fare, cerca di capire che cosa fare in un periodo davvero molto molto particolare, tanto per citare quella credibilità di cui parlava Bersani per il mondo politico, che è sottoposto con quello che accade per quanto riguarda la morale, i costi, gli sprechi, per quanto riguarda appunto le regioni che sono al vaglio della Guardia di Finanza con costi esorbitanti, con sprechi dal Lazio, passando anche però per altre regioni, appunto bisognerà capire come ne esce la politica. Intanto però il governo accorrerà ai ripari perché giovedì si profila un consiglio dei ministri in cui si cercherà di mettere mano appunto a questi costi e di vedere come intervenire per abbatterli. C'è il caso della regione Lazio, oggi ha parlato il ministro e ha detto che si dovrà votare, naturalmente non è un obbligatorio ma è un invito, e diciamo è evidente che sarà accolto in quanto tale a votare nel Lazio entro 90 giorni, quindi Lazio non sarà accorpato alle elezioni politiche ma ci saranno elezioni appunto a parte. Perché? Anche perché appunto le regioni non possono essere commissariate, non vale per le regioni questa regola e quindi c'è questa necessità. Il nostro viaggio ci porterà appunto in giro per questi sprechi e per queste regioni anche in Piemonte, dove in pochissimo tempo sono lievitati i costi, non solo attraverso come dire la regolarità di contratti effettuati, ma anche di altre strade che vengono percorse quando magari non tutti possono essere contrattualizzati, ovvero quello delle consulenze esterne. Poi il resto lo vediamo nei nostri titoli. Una lista civica nazionale per sostenere un Montibis la annunciano Casini e Fini. Per fare in modo dicono che questo governo non sia una parentesi. L'annuncio segue quello di Montezemolo che schiera l'Associazione Italia Futura a sostegno del Premier. Bersani e Alfano si ritrovano alleati nel respingere l'ipotesi di un nuovo impegno del Premier alle prossime elezioni. Difficile se non si candida, spiega il segretario del PDL, mentre Bersani sottolinea no a scorciatoie alle solite ricette italiche. Serve una politica credibile. Il ministro Cancellieri conferma che il Lazio deve andare al voto entro 90 giorni, ma la parola finale tocca alla regione. E' forse giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto per la riduzione dei costi della politica a livello regionale, meno soldi e più controlli. Dati sempre più sconfortanti, quelli che arrivano dal mondo del lavoro, essere precario nel nostro paese vuol dire avere meno di 1000 euro. Dopo la richiesta del presidente di Confindustria Squinzi e l'apertura del ministro Passera, ora le imprese sperano in un taglio delle tasse. Dopo Atene e Madrid, anche Parigi, scende in piazza decine di migliaia i partecipanti alla manifestazione organizzata dal Front de Gauche per protestare contro l'austerità imposta dall'Europa e la politica della presidente Hollande. Ancora di nuovo buonasera, allora il dibattito come avete sentito ormai da giorni è aperto, l'esperienza di Mario Monti è un'esperienza da concludersi e da considerarsi conclusa oppure no? Naturalmente c'è chi è favorevole e c'è però anche chi è contrario. Cominciamo subito con chi vede con favore questa ipotesi. Chiaro e tondo Monti, lo ha detto dagli Stati Uniti solo tre giorni fa, se serve sono pronto a fare il bis ma senza partecipare alle elezioni. Un messaggio spedito per rassicurare i mercati ma anche per mettere un punto al dibattito Monti-Bis sì o no. In campo, fuori però dalla competizione elettorale, ecco a quella vogliono partecipare nel nome del Premier, Casini e Fini. Attraverso il vostro lavoro, insieme al lavoro di partiti, si possa rendere possibile la nascita di una sorta di grande lista per l'Italia, di una lista civica nazionale, di un rassemblament che chiami a raccolta le energie sane del Paese. Fini a disposizione di Monti anche per ritrovare uno spazio politico al suo partito, Futuro e Libertà, reduce dalla batosta alle ultime amministrative. A favore del Monti-Bis, in sintonia con Fini, si schiera Casini. Se c'è qualcuno che pensa che Monti sia un incidente di cui liberarsi al più presto e fuori di senno, Monti è un interlocutore in tutto il mondo e in Europa. In questo momento di crisi è un prezioso punto di riferimento. Per oggi e per domani rilancia il leader Udc, da tempo il più convinto sponsor della conferma di Monti a Palazzo Chigi. Possiamo trovare il modo di convivere creando un contenitore che diventa l'unica grande offerta politica per gli italiani seri, per quelli che non vogliono abbracciare il grillismo, che sta tra il PDL e il PD. E questo è il nostro obiettivo politico e io aderisco a questa lista. Con Monti, ma non con i partiti che lo sostengono, si schiera Luca Cordero di Montezemolo. Non faremo alleanze, l'annuncio del presidente della Fondazione Italia Futura, polemico in particolare con Casini. Per rinnovare non basta cambiare la cornice del simbolo o la frecciata alla quale Casini decide di non replicare. E però c'è anche chi è molto meno entusiasta di un'ipotesi, di una seconda esperienza guidata da Mario Monti. E si trovano in questo caso sullo stesso fronte, anche se con parole, toni e sfumature soprattutto molto diverse, se il PD e il PDL. Se un merito l'ha avuto il caso Montibis, per ora è stato quello di riavvicinare chi tanto vicino non era mai stato. Alfano e Versani, per esempio, mai così all'unisono e mai così lontani da Casini e dall'idea di un prossimo governo di nuovo senza maggioranza, che ricalchi quello attuale. E che i no, grazie tante, ma preferiamo far da soli, vengano dai segretari dei due maggiori partiti di questa legislatura, per quanto al loro interno attraversati da insidiose e controcorrenti, che hanno scelto fin qui di sostenerlo, non contribuisce certo a rendere più cristallina la situazione. Alfano e Versani usano parole diverse, ma lo schema è lo stesso. Monti l'abbiamo voluto noi, ricorda Versani dalla mezza terme, e quindi non mi vengano a dire quanto è bravo, ma oggi il vero tema è che la politica deve rimettersi in gioco, deve tornare ad essere credibile. Io credo che non possiamo più puntare su delle eterne scorciatoie ricette italiche, c'è l'esigenza di una politica che sia finalmente credibile. Alfano gli fa eco da Roma. Io, che ho grande stima del presidente Monti e ritengo che lui sarebbe candidabile a tutto, ho una difficoltà a immaginare una campagna elettorale in una democrazia occidentale dove un candidato c'è ed è reale, sarà quello della sinistra, e l'altro candidato è virtuale perché non scende in campo. Ci vuole rispetto del risultato elettorale, aggiunge poi Alfano. Appunto, tutto o quasi tutto dipenderà dal risultato elettorale prossimo avventuro, ovvero dalla capacità che avranno i partiti di riguadagnare quella fiducia da parte della famosa società civile che i sondaggi degli ultimi mesi davano quasi per spacciata. Che noi italiani s'abbia sempre una certa tendenza a salire sul carro del vincitore, lo si è sempre saputo, lo dice anche oggi sul suo blog Beppe Grillo, ma col Monti bis ancora il fenomeno non si vede. Forse in primo luogo perché, per quanto siano di stallo le previsioni politiche post elezioni, il carro di Monti ancora vincitore non è. Andiamo a vedere invece che cosa accade nel Lazio dopo lo scandalo che ha terremotato di fatto la giunta guidata da Renata Polverini. La Regione Lazio dovrà tornare al voto e quindi tornerà alle urne entro dicembre. Un invito che arriva dal Ministro Cancellieri per le regioni. Non è previsto infatti un commissariamento come accade nei comuni e quindi evidentemente prima si vota e meglio è. Regione Lazio dopo lo scandalo, dopo la tempesta, l'ora del voto si avvicina. 90 giorni, un trimestre, tre mesi appena. Chiusa l'era della Presidenza Polverini, travolta dal ciclone del malaffare, dai bonifici di Fiorito, dalle feste in maschera, dalle cene, a base di ostriche e champagne, è il momento della cabina elettorale. È la Ministra dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, a parlare della scadenza delle urne, a prendere il calendario e dire che si dovrà votare entro il 28 dicembre, dunque entro la fine dell'anno, tre mesi dopo lo scioglimento del Consiglio regionale. Ospite del Festival del Diritto di Piacenza, la responsabile del Viminale non usa mezzi termini, prima si vota, meglio è. Anche perché, spiega, per le regioni non è previsto il commissariamento, dunque qualsiasi tentativo di tirarla per le lunghe, qualsiasi melina, qualsiasi diluizione dei tempi sarebbe ingiustificata. Salterebbe così l'ipotesi dell'Election Day, caldeggiata dalla dimissionaria Polverini, che farebbe slittare il voto per le regionali del Lazio alla prossima primavera, insieme alle elezioni politiche. Votare presto, dice i cancellieri, anche per cercare di scongiurare un pericolo, quello di accentuare il distacco tra cittadini e classe politica. Bisogna recuperare questo rapporto, è fondamentale. Rinviare il voto potrebbe dare alla disaffezione tra gli italiani e la loro classe dirigente una nuova arma per autoalimentarsi. È vero, la scelta definitiva sulla data delle elezioni spetta alla Regione e non al Viminale. È proprio la Ministra a precisarlo, ma come non tener conto adesso della sua indicazione? Abbiamo fatto approfondimenti tecnici, l'indicazione è quella di rispettare il termine dei 90 giorni, ha detto cancellieri. Ci sono conflitti tra le norme nazionali e lo statuto della Regione, tuttavia il parere dell'Avvocatura dello Stato ci fa intendere che tutto deve avvenire entro il terzo mese. Per la responsabile del Viminale, ciò che sta emergendo dalle inchieste in alcune regioni è fonte di allarme. Bisogna mettere strumenti di controllo e verifiche più stringenti ed efficaci. Sono avvenute cose gravi, ma c'è anche la gran parte della società civile che è corretta. Il denaro pubblico è sacro e va speso bene. Ognuno deve riappropriarsi della moralità del proprio comportamento, ha detto la Ministra, ma ce la possiamo fare. Allora, avete visto come tutto ruoti attorno a due grandi temi in queste settimane. Da una parte, appunto, che cosa ne sarà dopo le elezioni? Ci sarà di nuovo una politica alla guida del governo? Oppure si andrà ancora avanti con una esperienza, diciamo così, di un governo formato, anche se non totalmente, da tecnici? Dall'altro il tema è strettamente legato alla credibilità, una credibilità a quella del mondo, della politica che in queste settimane è duramente messo alla prova dagli scandali, da quanto accade anche in alcune regioni. Ebbene, il governo pensa di mettere mano e velocemente anche a questo capitolo, a quello della riduzione, il taglio dei costi della politica, e si pensa che ciò accadrà già giovedì in Consiglio dei Ministri. Promettono di non fare resistenza, anzi dicono, quei tagli li abbiamo proposti per primi noi. I governatori delle regioni, ormai tutti nel mirino dopo lo scandalo che ha travolto il Lazio, ma ormai le regioni sotto inchiesta sono almeno sette, mettono le mani avanti e in vista del prossimo Consiglio dei Ministri, quello fissato per giovedì, che secondo l'ordine del giorno dovrebbe intervenire proprio sui tagli ai costi della politica, assicurano, se il governo seguirà le nostre proposte, non faremo alcun ricorso, se l'esecutivo ha altre idee, parliamone. La dichiarazione è del governatore della Lombardia, Formigoni, che si è visto nei giorni scorsi con i suoi colleghi proprio per mettere a punto i tagli, ovvero riduzione da subito degli stipendi dei consiglieri, membri della Giunta e Presidenti. Oggi non possono superare lo stipendio dei parlamentari, ma l'intenzione è di abbassare ulteriormente il parametro di riferimento. Così come dovrebbe arrivare, ma questo dalla prossima legislatura, il taglio del numero di consiglieri e assessori. Secondo il governo, il criterio da seguire in questo caso dovrebbe essere legato al numero di abitanti per regione, da un minimo di 20 a un massimo di 80 consiglieri. Altro punto fondamentale poi, il denaro che va ai gruppi consigliari. In questo caso la proposta è di eliminare i benefit sotto qualsiasi forma, riconoscendo esclusivamente il finanziamento delle spese riferite alle funzioni politico-stituzionali dei gruppi. Spese che ovviamente dovranno essere documentate e sottoposte al controllo di un organo terzo, come ad esempio la Corte dei Conti. Ed infine, proprio per contenere tali finanziamenti, si dovrebbe andare anche ad una limitazione delle commissioni consigliari, che abbiamo visto essere uno degli escamotaggi più in voga per incrementare gli emolumenti dei consiglieri. Mentre il Governo vorrebbe limitare i cosiddetti monogruppi, dove lo stesso consigliere è capogruppo di se stesso, percependo ovviamente adeguata ricompensa. Infine, nonostante la legge lo preveda già, dovrebbe essere resa operativa la norma che prevede anche per i consiglieri regionali il passaggio al regime pensionistico contributivo. La legge risale al 2011, ma chissà perché finora è rimasta inapplicata. E plaude ai tagli previsti dal Governo, in questo senso anche Antonio Di Pietro, che di solito non è tenero con il Governo Monti, però in questo caso afferma il leader dell'Italia dei Valori. Non passa giorno senza che venga scoperchiato un altro verminaio. È chiaro che da anni un'intera cassa di profittatori si ingrassa a spese dei cittadini onesti. Sotto la voce costi della politica, quelli che pagano i contribuenti, la cassa ci ha messo tutti i suoi lussi e le sue spese pazze. E dunque, dice Di Pietro, ben fa mi stanno bene le misure messe in cantiere da Monti per i tagli ai costi della politica a regioni e a enti locani, anche se bisogna fare di più. E a questo proposito allora andiamo a vedere che cosa accade in Piemonte a proposito di costi lievitati, di spese gonfiate, di contratti fatti a go-go e quando non sono contratti la via è quella delle consulenze. Calci e spintoni al Consiglio regionale del Piemonte. Era il 30 dicembre 2010, sembra oggi. Si discuteva della riduzione delle indedità per i consiglieri. Davide Bono e Fabrizio Biolè del Movimento 5 Stelle chiedevano tagli più drastici di quelli approvati e lanciarono banconote false ai colleghi, suscitando le ire di Nino Boeti, PD, e Massimiliano Motta, PDL, oggi sotto processo per percosse e minacce. L'argomento, insomma, scaldava i cuori e le immagini ridiventano attuali con l'inchiesta in corso della Procura di Torino sui conti della regione e con la finanza a spulciare scontrini, rendiconti e bilanci dal 2008 ad oggi. Sono sette le regioni dove sono in corso indagini sulle spese dei consigli, fiumi di denaro pubblico utilizzati in modo quantomeno disinvolto. Ultimo esempio, le consulenze, su cui oggi fa il punto l'agenzia ADN Cronos, rilaborando dati Istat. Nel 2010 531 milioni di euro sono finiti a collaboratori esterni, quasi il 29% in più rispetto al 2007. Quasi la metà a uso di 5 regioni con statuto autonomo, prima classificata la Sardegna con 126 milioni e un aumento del 366%. La provincia di Bolzano, con 105 mila abitanti appena, ha elargito incarichi per 35 milioni. Dopo il Lazio e a Nord, che oggi puntano i riflettori, l'inchiesta piemontese promette sviluppi non da poco. Nel Mirino ormai non più solo i rimborsi chilometrici, con consiglieri maratoneti a consumare le gomme in giro per la regione, ma anche le carte di credito, una quindicina in uso ai gruppi, e poi la parentopoli regionale, fidanzate, fratelli, mogli, figli, con contratti di collaborazione. Tutto regolare, basta che siano persone di fiducia, è la replica dei consiglieri. Si alza il velo sulle false firme per ottenere i gettoni di presenza, e sui concorsi di fine legislatura per regolarizzare in zona Cesarini collaboratori precari. Mai fatti concorsi di fine mandato, assicura la ex governatrice Bresso, che conferma però il malcostume e chiede che i gruppi non possano più ricorrere a personale esterno. Intanto è caccia tra il serio e il faceto al vacanziere di San Germano Vercellese, che si sarebbe fatto rimborsare, chilometri e diarie, per una settimana bianca a Sestriere, figurando in missione, secondo la denuncia del deputato PDL Roberto Russo, che da allora non fa che minimizzare e scusarsi, in attesa di presentarsi a processo anche lui per reati contro la pubblica amministrazione, domani al Tribunale di Vercelli. Ore contate per i furbetti anche in Emilia, con una maxi-inchiesta figlia di altri filoni di indagine, come quello sulle interviste TV a pagamento. Ad affiancare la procura un pool di cinque finanzieri. Intanto i consiglieri si fanno i conti in tasca. Qualcuno ha scoperto che la collega Rita Moriconi guadagna però alla luce del sole più di tutti gli altri, e ha due portaborse anziché uno. Già la chiamano scherzosamente Catwoman. Restiamo al nord per occuparci però della Lega. La Lega che riparte da Varese, dove più o meno un anno fa il congresso fu duramente contestato dalla base del Carroccio. Allora fu eletto segretario un uomo vicino a Bossi, oggi invece si riparte da Maroni, da un uomo a lui vicino. E Maroni aggiunge, tra l'altro, è finita l'era, l'epoca del tutti contro tutti. Se c'è un simbolo finale del passaggio storico della Lega da Bossi a Maroni, del cambio dalla canottiera del vecchio capo alle cravate del lingotto, eccolo oggi. L'elezione a segretario provinciale del Carroccio di Varese di Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone, candidato unico e pupillo dell'ex ministro dell'interno. 33 anni, prodotto della Lega 2.0, punta del movimento dei sindaci guerrieri, nel linguaggio maroniano. Ha revocato il contratto di riscossione di Imu e Tarsu con Equitalia, al grido di Equitalia Raus. I guai e la faida interna alla Lega erano cominciati qui esattamente un anno fa, con la proclamazione a segretario di Varese di Mauriglio Canton, fedelissimo di Bossi, eletto fra i fischi a porte chiuse, senza votare e dopo il ritiro dei due avversari. La contestazione al leader, nella culla del leghismo, a casa di Bossi e in faccia al senatur stupefatto, era la prova evidente della frana nel muro leghista, la fine del centralismo bossiano. Cantonna si era tolto di mezzo sei mesi più tardi, subito dopo le dimissioni di Bossi. Un passo indietro per il vecchio sgarbo della sua proclamazione imposta al partito e soprattutto per la manifestazione di sostegno al senatur in via Bellerio nel giorno della resa dei conti nella segreteria federale, con i volantini di Giuda tirati sulla macchina di Maroni. Questa fase si chiude oggi, la fase dei casini interni, la fase dei problemi, la fase di tutti contro tutti. Oggi si chiude. Bossi e Canton oggi non hanno partecipato al congresso. Bianchi ha raccolto 213 voti su 278, quasi un plebiscito per il nuovo corso, che in attesa delle mosse sulle alleanze a febbraio, dopo i colpi di scopa al passato e alle icone. La rinuncia a Pontida dell'estate scorsa e al rito dell'ampolla sul Po, ora si concederà il ritorno a Venezia con la classica manifestazione alla riva degli schiavoni. Parliamo adesso del ponte sullo stretto perché arriva una precisazione. In questo senso non esiste l'intenzione di riaprire le procedure per il ponte sullo stretto di Messina. Anzi, ha spiegato il portavoce del ministro dell'Ambiente Clini, al contrario, il governo vuole chiudere il prima possibile le procedure aperte anni fa da precedenti governi e per farlo deve seguire l'iter di legge. L'ipotesi riferita oggi dal quotidiano La Repubblica, che aveva subito suscitato le reazioni dell'opposizione, viene in questa maniera smentita. Adesso però ci occupiamo del lavoro, un lavoro che spesso è precario e quando è precario ancora di più fa rima con salario ed è un salario basso e c'è una ricerca fatta dall'ISFOL che mostra proprio i numeri e le differenze tra chi lavora con un posto a tempo determinato e chi invece ha un contratto a tempo indeterminato. Non che sia famosissimo, almeno ai nostri occhi, però Edmund Stoiber in Germania una volta contava davvero e negli anni 90, quando governava la Baviera, diceva che l'Italia non doveva entrare nell'euro. L'ha confermato al tedesco Spiegel, che ci punzecchia spesso, con motivazioni puntuali per il nostro dibattito e cioè che il nostro problema non è il debito, come dicono sempre i tedeschi, ma il costo del lavoro, dove partiamo sempre sotto di un gol. Le statistiche sono ormai interpretabili, ma il fatto che nell'ultimo decennio i tedeschi abbiano mantenuto il costo del lavoro fermo a fronte di un 30% di aumento del nostro si commenta da sé, anche se poi non si spiega sempre facilmente, come oggi, quando si scopre con i dati dell'ISFOL, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, che i precari italiani guadagnano il 28% in meno di chi ha un posto fisso e a fatica raggiungono i 1000 euro netti al mese. Vista da loro, è pessima. Vista dalle aziende, chiaramente no. Ma nell'Italia precarizzata a forza, un dato così, a spanne, dovrebbe comportare costi più bassi. E invece no, perché al processo servirebbero innovazioni di prodotto e ricerca, per poi passare a quella produttività che si raggiunge alla fine, non all'inizio, dove invece vanno concentrati gli investimenti, senza dimenticare che il costo di un investimento mancato, quando invece serve, si moltiplica. Domani mattina l'Istat alzerà il velo sui dati degli occupati di agosto, mese dove tanto per restare al tema si concentra il lavoro precario. O almeno lo faceva prima che la crisi mordesse il turismo, tanto per fare un esempio. Nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, solo pochi giorni fa il governo ha definito il tasso di disoccupazione atteso per il 2012 al 10,8% e all'11,4% quello previsto per il 2013. Tutto questo va chiarito al netto di Fiat, tra Pomigliano che ha disposto nuove casse integrazioni, e Mirafiori dove in pratica si lavora pochi giorni al mese, ma anche al netto di Alcoa che deve ripartire da zero visto che la Svizzera a Glen Corsi è defilata e insomma al netto delle altre circa 150 avvertenze aperte in giro per l'Italia. Paradossalmente un 10-11% che vale comunque un quasi 40% di disoccupazione giovanile ci tiene sulla linea europea di galleggiamento statistico visto che il tasso non tiene conto delle casse integrazioni nella speranza che non si trasformino in qualcosa di peggio. E in qualcosa di peggio, lo ha già detto Squins, il leader di Confindustria ieri, le imprese stanno morendo di fisco e di tasse, il suo grido di allarme che ieri naturalmente vi abbiamo raccontato con tutte le reazioni a caldo, ma oggi è il caso forse di soffermarci anche su cifre, su numeri e su chi un piano lo aveva ipotizzato, chissà chi se lo ricorda. Se si va alla voce pressione fiscale per l'anno 2012 e si sbircia il dato relativo all'Italia, viene fuori la seguente percentuale 44,9%, certamente alta ma inferiore e non di poco rispetto a molti altri paesi europei come ad esempio Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi ed Austria, dove il peso delle tasse sui contribuenti vale oltre il 50% del reddito. Tuttavia, questa è solo la pressione fiscale apparente, ovvero quella calcolata sui redditi effettivamente dichiarati e che non considera dunque il sommerso. Se dall'apparenza si passa alla realtà dei fatti, ovvero alla pressione fiscale effettiva, quella percentuale sale al 54%, tondo tondo secondo il Centro Studi di Confindustria, quasi un primato europeo. E infatti, proprio dal presidente degli industriali, Giorgio Squinzi, ieri dall'ingotto di Torino, è arrivato il grido di dolore più straziante. Le imprese muoiono di tasse e poi la proposta allo Stato. Noi imprenditori rinunciamo a tutti gli incentivi, ma voi riducete l'IRAP. Una proposta che ha fatto subito tornare in mente il famoso, quanto misterioso per la sua sorte, Piano Giavazzi, ovvero il piano messo a punto dal professore della Bocconi Francesco Giavazzi, il superconsulente incaricato dal governo lo scorso 30 aprile, e che avrebbe come obiettivo proprio l'abolizione degli incentivi che non creano investimenti aggiuntivi per spostare le risorse così ricavate sulla riduzione del cuneo fiscale, che sarebbe, ricordiamolo, la differenza tra quanto il lavoratore costa all'impresa e la sua retribuzione effettiva. Ma allora, che fine ha fatto questo piano? Il rapporto consegnato dal professore all'altro professore, ovvero il presidente del Consiglio Monti, data 30 luglio. In esso si indicano i 40 aiuti da abolire per alleggerire la pressione fiscale, con in testa quelli alle piccole e medie imprese e alle aziende delle zone più in difficoltà. Agevolazioni che, se cancellate, consentirebbero allo Stato di recuperare un gruzzolone da 10 miliardi di euro, un calcolo che però rimane puramente teorico, un esercizio di stima, lo definisce la relazione, che potrebbe, nell'arco di due anni, produrre un aumento del PIL di un punto e mezzo, tanti, troppi condizionali, mentre già si parla di risparmi in verità inferiori a quanto sperato tra il miliardo e di tre. Ma soprattutto, la domanda è, il piano Giavazzi entrerà a far parte della terza fase della spending review o del decreto bis sullo sviluppo che il ministro Passera sta mettendo a punto? Oppure, come accade spesso, l'idea verrà abbandonata al proprio destino, al governo l'ardua sentenza? Venerdì abbiamo chiuso la settimana con la borsa, con i mercati, anche qui in Italia in sofferenza. Gli occhi sono puntati su paesi molto in difficoltà, come la Grecia, ma anche la Spagna, e per la riapertura, purtroppo, le previsioni sono di un lunedì di fuoco. Meno due e ventinove, così la borsa italiana aveva chiuso venerdì pomeriggio, risentendo, avevano affermato gli analisti, soprattutto delle notizie provenienti da Spagna, Grecia e Francia. Per Atene e Madrid, le decisioni per far fronte alla terribile situazione interna aveva scatenato le proteste della piazza, proteste peraltro che Madrid, seppure in forma minore, stanno continuando anche in queste ore. Cosa accadrà domani alla riapertura dei mercati? Quello che si prospetta è il classico lunedì di fuoco, infatti, si attende la reazione delle borse alla durissima manovra da 40 miliardi di euro varata a mercoledì scorso dal governo spagnolo, ma soprattutto ai dati diffusi dall'esecutivo su quanti miliardi sarebbero serviti per ricapitalizzare le banche iberiche. 60, meno di quanto previsto, ma comunque pur sempre una montagna di soldi. Le forti perdite bancarie e relativi aiuti di Stato hanno infatti pesato anche sul rapporto deficit-PIL che per il 2011, ha informato il Ministro delle Finanze Montoro, ha raggiunto il 9,44, contro l'8 e 9, stimato inizialmente. Sul campo dunque restano tutti i gravi problemi finanziari della Spagna, tanto che sembra molto probabile l'annuncio di uno sciopero nazionale per la prossima settimana da parte dei sindacati, compreso, naturalmente, il capitolo degli aiuti che il governo Rajoy si appressa a chiedere all'Europa, forse già nei prossimi giorni, e che potrebbero influire ancora di più sui conti pubblici del Paese. Dalla Spagna alla Grecia il passo è breve. Anche qui la rabbia dei manifestanti esplosa violentemente, la capitale ha vissuto nei giorni scorsi momenti di terrore. Il rapporto della Troica europea è stato chiarissimo, un nuovo miliardo di euro di buco scoperto nei conti pubblici e gravi deficit nelle riforme, al punto che oggi il Premier Samaras è intervenuto per sollecitare l'approvazione del piano di risanamento che possa consentire l'erogazione degli aiuti della Troica con cui i propri domani è prevista una nuova riunione. La paura del contagio è talmente grande che oggi la stampa tedesca ha scritto che secondo fonti di Bruxelles la seconda trancia degli aiuti alla Grecia verrà erogata nonostante la documentazione presentata all'Atene sia stata definita comunque incompleta. Ma la crisi è globale e a risentirne sono più o meno tutti i paesi. Non si salva neppure la Francia che venerdì ha approvato la manovra economica più dura degli ultimi 30 anni e che prevede tra l'altro un contributo straordinario del 75% per i guadagni oltre milioni di euro. Contro le decisioni nel governo oggi sono scese in piazza non meno di 50.000 persone aderenti al fronte gauche il fronte di sinistra che hanno protestato contro la politica economica del presidente Hollande. Tutto questo a grido di resistenza resistenza e a solo due giorni dall'esame in Parlamento del cosiddetto fiscal compact. Prima di andare in pubblicità vi dico che c'è stata una fortissima scossa di terremoto una scossa di magnitudo 7.4 che ha colpito il sud ovest della Colombia. ci fermiamo. Non ci sono altre notizie lasciamo subito la linea in onda Luca Tellese e Nicola Porro che hanno questa sera ospite Roberto Formigoni. Grazie per l'attenzione buona serata.